Sì, abbiamo giocato da gran squadra, penso sapevamo dall'inizio che sarebbe stata una partita veramente tosta, loro sono una gran squadra anche loro e quando giochi una finale di Champions sai che l'avversario che è di fronte è veramente forte e niente, nonostante un po' di alti e bassi ce l'abbiamo fatta, finalmente. Non c'è stato mai un momento in cui avete avuto paura di non farcela? No, penso che questa squadra non ha mai avuto paura di non farcela perché quando entra in campo pensiamo sempre a dare il massimo, anche se a volte non ci riusciamo sempre, però volevamo godercela, Dani è entrato in spogliatoio e ci ha detto godetevela, abbiamo lavorato un anno per arrivare a questa finale, ci siamo arrivati e quindi è il giusto momento di godervela, però ci ha detto entrate aggressive perché loro vorranno vincere quanto quanto noi. Che anno è un anno in cui non perdete una partita? Non lo so, tutti ce lo chiedono ma in realtà noi entriamo in campo e non ci pensiamo, noi entriamo in campo, ci vogliamo divertire, giocare, vincere e forse questo penso sia la nostra fortuna, non lo so, non ci pensiamo, però se ci riflettiamo penso che abbiamo fatto una stagione straordinaria. Che motivazioni ripartirete dopo una stagione così perfetta? Far meglio di così no? Nel senso che magari l'anno prossimo ci sarà anche il mondiale, speriamo e quindi avremo un altro torfai in più, sicuramente non sarà facile ovviamente perché ho visto già un po' di voci di mercato e il campionato diventerà ancora più ostico con l'italiano ma bello no? Così ci divertiamo, il livello si alza ed è bello per tutto il movimento ecco. Vorrevo fare un ringraziamento innanzitutto alle mie compagnie di squadra, a tutto lo staff che veramente ha lavorato tantissimo quest'anno, dagli allenatori, fisioterapisti, preparatori, team manager, tutti veramente la DT Stampa e anche la società, i tifosi perché la società in questo momento di difficoltà ci ha permesso di esprimerci al meglio, ecco non ci ha fatto mancare nulla nonostante tutte queste difficoltà e quindi grazie anche a loro penso che sia dovuto anche ai sponsor. E niente, volevo farlo e volevo dedicare questa vittoria alla mia famiglia che è stato un anno difficile per tutti e a Paolone che penso che dopo questi quattro torfai sarà su lì e starà urlando con noi e tutti i tifosi che anche oggi nonostante non potessero entrare li abbiamo trovati qui fuori ad accoglierci e ho detto sicuramente anche ai sponsor, alla società ecco. Perdiamo una gran giocatrice ma soprattutto una persona straordinaria.